Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlerò di WoW, un'applicazione che è uscita non da molto, che è simile a Skype e Whatsapp, che vi permetterà di guadagnare messaggiando, facendo le videochiamate e le chiamate normali. La qualità delle chiamate e videochiamate è veramente alta, ma voi vi chiederete come faccio a guadagnare? Semplicissimo, messaggiando e invitando le persone. Per iscriversi a WoW è semplicissimo, basta avere un link di una persona che già iscritta, se siete interessati vi lascio il link in descrizione. I sistemi disponibili per WoW sono Apple, Windows, Android e Mac. Ora vi darò un'idea dell'applicazione di WoW, io l'ho scaricata sul cellulare e computer. Da qui potrete vedere i contatti, le vostre attività, quindi le vostre ultime conversazioni e in alto a destra sui earnings i vostri guadagni. Spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale e iniziate un'avventura con WoW. Ciao ragazzi, alla prossima!